Stai registrando? Sì. Che cosa fai? Non c'è più niente da nascondere. Ricordi la prima volta che sei venuta a Kabul? Certo. Scusami. Ti raccontai la storia di quella bambina venduta per saldare un debito. E tu dicesti che il solo modo per cambiare il mondo... È cambiare la storia, sì, me lo ricordo. Perciò adesso ti racconterò la mia. Mia madre era innamorata di un uomo, ma la sua famiglia la obbligò a sposarne un altro. Noi figli vedevamo che ogni giorno cercava di cancellare il ricordo di quell'uomo. Finché una mattina... Uscì fuori in giardino e si gettò della benzina addosso. Poi accese un fiammifero. Mia sorella maggiore, Aisha, quella stessa notte fu streggiata dal marito come punizione per avere una madre così debole. La bambina che è stata venduta sei tu? Perché me lo dici solo ora? Per proteggerti da Zayef. Che collegamento c'è fra voi? Secondo te perché so tante cose su di lui? È alla sua famiglia che sono stata venduta. Perché hai voluto rischiare mostrando il tuo viso alla telecamera? Perché questa è l'ultima volta che noi due ci vediamo. Che cosa vuoi dire? Elsa, Zayef sa tutto, l'ha scoperto. Perdonami, adesso devo andare. Maina, aspetta ti prego, rimani. Posso farti uscire se vieni con me. Tu devi andartene e cambiare la mia storia. Vattene, non tornare più. Amin, non ora. Maina! Maina, aspetta ti prego.